L'estate da capitale di Pesaro 2024 non termina con il periodo di ferro agosto, bensì prosegue con tanti altri appuntamenti importanti in programma. Sì, assolutamente. Intanto abbiamo in corso ancora la mostra di numero cromatico alla Centro Artivisive Pescheria, proprio a proposito di Centro Artivisive e di Piazzale della Creatività, tra la Pescheria e il Liceo Artistico Mengaroli, uno dei progetti che partirà il 17 di agosto, e Archivio Viqui, un progetto curato e legato alla figura di Massimo Delcini e che rappresenta un punto di unione tra quella che è la creatività contemporanea e quello che, come raccontato nel dossier, è anche parte della storia che ha contribuito a fare la forza e la spinta di Pesaro 2024. In attesa del grande evento che inizierà il 30 agosto fino al 12 settembre di Sakamoto, il progetto Kagami, questo concerto in anteprima europea, che va a ricostruire in maniera virtuale, in tecnica di realtà mista, una prima esecuzione dell'ultimo capolavoro del maestro Sakamoto scomparso esattamente un anno fa e che per la prima volta viene rappresentato in sua assenza, ma in presenza di strumenti digitali che se lo faranno percepire come presente in questa prima sicuramente anomala, ma è carica di fascino. In più, a fine mese, prosegue il 27 di agosto anche il ciclo di interventi di artisti nei quartieri e sarà la volta di Matteo Fato, già protagonista di numerose attività a Pesaro, una mostra in pescheria, un'altra in progetto room, in musici civici, questa volta con un intervento molto poetico, suggestivo e anche d'impatto e nel, non diciamo molto di più, nel cosiddetto pennello in Baia Framinia. Quindi Baia Framinia, dagli scogli, si potrà ammirare un'altra opera che, giocando sull'idea della natura e della cultura, però fisserà un altro punto di bellezza in questo progetto multiforme che nasceva dalle sculture in città di Pomodoro del 71 e che sta diffondendo, grazie ai contributi di tanti artisti, tanti segni condivisi con i quartieri. Grazie.